Gravedona nel mirino dei ladri nella notte tra domenica e lunedì. I malviventi hanno svaliggiato una villetta nella quale erano presenti quattro persone, rubando soldi e oggetti di valore, ma anche le auto della famiglia, una Renault Clio e una Mazda CX-7. Le vittime del furto, che hanno subito sporto denuncia ai carabinieri di Gravedona, temono di essere state addormentate dai ladri, perché al risveglio tutti accusavano mal di testa e un senso di malessere. Inoltre nessuno tra i presenti si è reso conto dell'incursione dei ladri, che sono entrati anche in camera da letto e neppure il cane di famiglia abbaiato per segnalare la presenza di intrusi. Dall'abitazione sono stati rubati anche trapani e motoseghe. Dopo aver svaliggiato la prima villetta, i ladri hanno scardinato anche la porta d'ingresso e quella del garage dei vicini, senza riuscire però a rubare nulla. I malviventi hanno messo a suo quadro infine anche un altro appartamento, al momento disabitato, dal quale hanno rubato un forno. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di menaggio, che hanno effettuato un sopralluogo nella casa svaliggiata.